Siccome ieri ho visto questo tuo tweet, penso fosse un passaggio dell'intervista di Spalletti con Repubblica, sul Corriere, non me la sono ancora letta integralmente, però tu hai postato un passaggio molto eloquente, visto che stavamo parlando prima di Spalletti Allegri, Mazzari Allegri, della partita del weekend, prima di salutarti volevo chiederti un po' di spiegarcelo. La prima frase della risposta è alla domanda, il calcio è davvero un gioco semplice? Lui dice, il calcio semplice è per chi si accontenta degli standard e per chi pensa che il campo sia 105 metri per 68, il calcio diventa più complesso ed estremamente più affascinante, per chi pensa invece che il campo sia 7.140 metri quadri, solo così si capisce la vastità delle possibilità e delle sfide e le variabili coinvolte in una partita di calcio. Poi è una risposta bellissima, molto articolata, quasi una risposta manifesto del calcio di Spalletti, che in molti hanno visto come una provocazione contro l'allegrismo. In realtà mi sembra più una provocazione contro un modo di analizzare il calcio che Spalletti ha sottolineato più volte, soprattutto per chi fa comunicazione, cioè contro chi fa comunicazione. Sì, guarda, l'ho interpretata anch'io così, un ragazzo mi ha scritto su Twitter, proprio per questa questione qui, dicendo che è un attacco chiaro ad Allegri, al cosiddetto allegrismo. Secondo me no, cioè vorrei ritenere, insomma, vorrei pensare e credo anch'io che sia così, almeno questo è il mio pensiero, anche se sui social a volte sembra diversa, diversamente la cosa è che il calcio italiano non ruota intorno ad Allegri. Cioè, quello che Allegri fa, quello che Allegri non fa, quello che Allegri ha detto, quello che Allegri non ha detto, quello che dicono gli amici di Allegri. Io credo che quello sia stato un manifesto dello Spalletti pensiero, di un certo modo di intendere il calcio. Io sono d'accordo personalmente, cioè il calcio è semplice, almeno per me, è semplice nella sua complessità ed è complesso nella sua semplicità, perché rimane sempre uguale da cent'anni quello che devi fare, devi segnare più dell'avversario e subire meno gol. Ma il modo in cui tu vai a fare queste cose è profondamente cambiato. Ora, si può parlare di un riutilizzo, si dice, ogni tanto sento, ma Guardiola non ha inventato nulla perché lo faceva anche l'Unghe, quando viene fuori il falso Noeve, dice, ma lo facevano anche gli ungheresi. Sì, ma è una riproposizione moderna, cioè non si può dire che è la stessa cosa di quello che si faceva 50 anni fa, quindi c'è sempre qualcosa da inventare. E il calcio è semplice per chi si accontenta di guardare il risultato e per chi si accontenta di darne un'interpretazione semplice, e in questo sono d'accordo con te Davide, è completamente, secondo me, una critica più a un certo modo di approcciarsi al calcio, cioè pretendere che chi lo dice proprio in un passaggio successivo di quello che hai letto, cioè dice spinge i commentatori ad adeguarsi e invece troppo spesso abbiamo dei commentatori che dovrebbero semplificare per lo spettatore quello che succede in campo, ma non banalizzare, e invece troppe volte si tende a banalizzare, non perché è lo spettatore che vuole questo, come spesso si dice, no facciamo vedere come la televisione, no facciamo vedere un programma trash perché il pubblico vuole questo, no, il fatto è che tu, che dovresti avere il compito come media di spiegare quello che hai visto in maniera semplice, non studi, non ti aggiorni, rimani nella tua posizione perché spesso si parla di colleghi giornalisti che sono nella loro comfort zone da tutti i punti di vista, nessuno li tocca, stanno liberatamente e ti raccontano il calcio come quando ero piccolo io, le partite in tv non si vedevano, l'unica cosa che potevi fare era prendere il giornale e quindi non era solo la cronaca, ti spiegavano la partita che tu non vedevi, ma ora la partita la vedono tutti, tutti, e quindi non puoi raccontare quello, devi spiegare, ma se non hai mezzi, non approfondisci, non studi, come anche gli allenatori, quali sono gli allenatori che stanno andando davanti? Quelli che stanno studiando, che propongono le cose nuove, lo stesso Pioli che ora viene criticato, ma ha vinto lo Scudetto, non è il Pioli della Lazio o della Fiorentina o di tanti anni fa, quindi anche chi racconta il calcio dovrebbe in qualche modo cercare di migliorare e di evolversi, e scusatemi in fervor un po', non è se io faccio vedere, scrivo expected goals nel mio commentino, allora sono moderno, ho capito cosa sta succedendo, bisognerebbe un po' andare un po' in evoluzione in chi racconta questo sport, ma poi la gente, il mainstream non lo legge più, i giornali non lo legge più, la televisione mainstream non la guarda più e seguono la fiera del calcio, quindi un motivo, una domanda uno si dovrebbe fare, no?